Nelle scorse ore è stata depositata formalmente la richiesta di iscrizione in Serie A alla FGC. È stato costituito anche un trust nel rispetto delle regole che vietano la multipla età. La federazione giocaccio è stata finora molto attenta, serie responsabile, ospichiamo la stessa chiarezza e la stessa serietà nelle prossime ore e la stessa attenzione a rispettare il merito sportivo. La serietà ha conquistato sul campo la Serie A e deve necessariamente disputare il campionato di massima serie la prossima stagione. Faremo attenzione a che non vi siano carte bollate che limitano e legano questo diritto conquistato sul campo. La serietà, la società e l'intera comunità attende con ansia e con diritto di poter disputare il campionato di massima serie della prossima stagione.